La vacanza ideale è legata al comportamento in quei contesti, è chiaro che anche avendo frequentato per lavoro zone marine ho visto che c'è una certa disattenzione in alcune situazioni balneari, nelle spiagge di una voglia di stare insieme, una scarsa attitudine al distanziamento sociale. Ho visto in alcune regioni l'abitudine ancora a stringersi la mano, a avvicinarsi, ecco io credo che si possa stare insieme però con quella dose di buon senso. Dico che non sarà possibile la moda della tintarella con il segno della mascherina ma avere la mascherina come abbiamo gli occhiali da sole da usare nei momenti. Quindi non è più una questione. E fu così che una mattina lui vide in faccia la bella Fatina, lo stesso giorno e non fu un caso si ritrovò ad avere più lungo il naso. E fu così che una mattina lui vide in faccia la bella Fatina, lo stesso giorno così per caso si ritrovò ad avere più lungo il naso. E fu così che una mattina lui vide in faccia la bella fatina. Di Marachelle ne ha fatte tante finché conobbe un piccolo birbante. E fu così che una mattina guardandolo negli occhi gli disse andiamo nel paese dei balocchi. Con i suoi amici in gir si dimenava mentre il subaffo in mano lo cercava. Ma quando inciugo per magia fu trasformato da un pesce cane fu divorato. Un diame all'improvviso il burattino si trasformò in un bimbo birichino. Merichino, merichino. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti